Oggi ragazzi siamo qua per fare uno scherzo epico a Diego, quello abusivo Lo so ragazzi che gliene ho fatti tantissimi ma questa quarantina mi sta dando la testa E visto che non so cosa fare, e visto che io sono il king dei prank Ho appunto deciso di trollarlo per l'ennesima volta Allora, ora vi spiego quello che andrò a fare Avevo già fatto una specie di troll simile tipo 6 mesi fa al team Blades all'Utscuba Dove io andavo a fare il provino per il suo team, quindi i Blades E poi alla fine si scopriva che ero io e ovviamente io insultavo i Blades Oggi andrò a fare la stessa cosa ma col team di Diego Quindi con gli ex, quindi fra appunto un provino per il suo team ragazzi Entrerò e lo insulterò tutti ragazzi, farò un casino Lui ovviamente si arrabbierà e vedremo come andrà a finire ragazzi Che ormai si arrabbierà tanto quindi sarà molto divertente Ovviamente ragazzi ci sarà in descrizione il canale di Diego Quella abusivo, quindi ragazzi mi raccomando seguitelo tutti Correte a seguirvi anche su Instagram, link sempre sotto in descrizione Codice Zerbi dello shop ragazzi Z e RBI Più se che ogni giorno aggiungo una persona di amici tra quelli che utilizzano questo codice Iscrivetevi al canale attivata la campanellina E detto questo ragazzi spieghiamo che Diego ci inviti in lobby Ragazzi sentite che voce sto usando, la solita voce che uso per fare i troll Cioè è veramente difficile che qualcuno mi sgami con questa voce ragazzi Non si sente assolutamente che sono io Quindi ora ragazzi ho soltanto un amico tra l'altro che è pure Diego abusivo Quindi ragazzi lo invito, anzi mi potrei anche già unire Quindi tra poco mi unisco Anzi forse mi ha anche già invitato lui ragazzi, non lo so Comunque adesso mi unisco Speriamo ragazzi che non mi sgami, speriamo che non mi sgami Comunque ragazzi se mi sgamano vedete questo video Quindi se lo state vedendo è perché non mi ha sgamato Ragazzi perfetto mi ha appena invitato Comunque ho visto che io dico tipo sempre bro, fra, robe del genere Ora proverò tipo a cambiare 100 Quindi magari dirò zio Cioè cosa che io non dico mai, io non dico mai zio Però per esempio proverò a dirlo ragazzi E vediamo se Diego ci cascherà Mi sta ancora invitando, entriamo, entriamo, entriamo Uè bella zio Bella bro Bella bro Tutto a posto Ma di dove sei? Eh sono di Milano io Cioè figata Ma comunque Zio Ok ok calmo Non è un problema se registro, di solito registro i provini Se avviene qualcosa di bello lo carico Va bene va bene nessun problema Nessun problema Dai zio Ma perché hai i blades davanti al nome? Eh no zio ti spiego E sarebbe il mio sogno entrare nei blades, capito? Quindi mi piace E poi provino per gli ex Eh zio nella vita bisogna accontentarci Cioè dai Cosa? Cioè bisogna accontentarsi Ascolta accontentarsi Due cose Due domande Due domande Uno Perché sei a livello 1? Eh no zio Visto che volevo fare una bella partita Mi sono creato un account nuovo Così incontro gente più scarsa Zio Ah furbo ragazzi Ha senso il provino così Ha senso il provino così Non ha senso Eh sì Allora vogliamo sfidareci io te Vediamo come va zio Dai Ti spacco Seconda domanda importante Perché hai la voce modificata? Troppe domande Dio Troppe domande Ma come troppe domande? Andiamo in partita Va bene Andiamo in partita Ok andiamo in partita Io metto salto Vai a fare un singolo No? Vai 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 Naturalmente codice creatore Come mi ha inviato la foto Ah sì codice creatore E Diego abusivo Certo Diego abusivo Codice creatore Diego trattino abusivo Sì toi Ti ho mandato la foto Tac c'è sì Ma che te sei preso? Un'aspirina Che è? Ti sento un po' Tipo troppo Non lo so zio Andiamo in singolo Ti faccio vedere come si gioca Dai Vado a suicidarmi Va bene va bene Io invece me ne sto andando A parco pacifico Zio Dai Allora ascolta un secondo Io ti dico subito Che sono veramente molto forte E ho anche già battuto Tutti quelli che vengono a fare il provino Oppure la gente che cerca di corrompermi Ok Io ho battuto quello del tuo team Io sono fortissimo Nessuno batte quello del tuo team Vai vai Chiedi Com'è che si chiama quello lì Dai Il tipo Il tipo più forte del tuo team Come si chiama Neanche li conosci Sì sì Mi fanno pena Dai Ma non ha senso questa cosa Non ha senso Perché di solito I ragazzini Per fare il provino Mi dicono Guarda che ho battuto questo Che ho battuto l'altro I ragazzini dicono Sì guarda che io Zio Guarda che io sono piccolino Ma me la cavicchio Allora ascolta Sei molto simpatico Sei un grande intrattenitore Mi piaci Sto registrando per questo Allora Hai una bella voce Soprattutto Ascoltami Io continuo il provino Per questo Io ti dico questo Per entrare Sicuramente ti do Il 99% di impossibilità Di entrare Visto come Ma come Vedremo Vedremo Però ascolta L'1% di possibilità L'hai Però mi devi fare 20 bombe Visto che è un account nuovo Non ha senso fare il provino Con l'account nuovo Seconda cosa importante Devi fare giocate belle Ok Ma io faccio sempre Giocate belle Guarda che Ho battuto Com'è Com'è che si chiama lì Dai Che il più forte Il tuo Non mi conosci Quelli Gianfranchetto Dai Pino Allora Guarda che sei già morto Fra sei già morto Mi sono suicidato Sì Dai Allora Classica scusa di quelli che muoiono Allo sardo Mi sono suicidato Ragazzi Ma Veramente Rincoglionito Cioè La classica Scusa Comunque Dai Adesso vado a pushare qualcuno Dai vado a pushare qualcuno Perché push Che non ti sto guardando Aspetta un'altro Ah A pushare botte Ma che botte Guarda che tu sei già morto L'unico botte in partitale Tu e sei già morto Non ce ne sono altri Ragazzi è simpatico Lo voglio Voglio farlo sfidare ad ecco Ma chi è ecco Da te ecco Il pro player con due win Dai 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 Guarda guarda C'è uno qui Guarda come si gioca Pam 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 Vediamo Vediamo Guarda qui Bang Ah Guarda 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 Quello del tuo team Prima di uccidere Lo mancavano sette volte Dai Ma non ti sto ancora guardando Ma come Non ti sto ancora guardando Ho una kill Sì Ho una kill Ma guarda che è un bot Quello Che fare Non è un bot Tu non l'hai capito Ma è un bot Ma che bot Zio Zio Ascoltami Ascoltami Ho capito Che tu sei abituato A vedere quelli del tuo team Che giocano un pochino Scarsi Però adesso Vedrai un vero pro player Come gioca Ok Quindi Zio Ma è un bot Zio Dai Guarda Guarda Ascoltami Ascoltami Non voglio parlare con l'uno che è appena morto Dopo 10 secondi di partita Dai Allora 20 kill Dai Ascoltami un attimo Ex Diego abusivo Hai La minima Vedete in cui stai parlando Dai Guarda qui Guarda qui Guarda One shot Mi Che colpo Mamma mia Mi insegni Mi insegni Ok Credo di aver già fatto il record di kill nel tuo team Credo di aver già fatto 4 kill non ne ha fatto nessuno nel tuo team Zio Guarda qui Guarda qui Zio Guarda 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 Ma cosa fa Guarda 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 Questa qui Ascuba Questa qui Ascuba Zio Questa qui Ascuba Mi sa Guarda 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 È a scusa Questa è a scusa Ascula Ascula Zio 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 Morto subito Dai Ascolta Sono già dentro Sono già dentro Armanicomio Senti Lo te Le manicomio La faccio per te Zio Ascolta un attimo Non scherzo Tanto con me Che qui Conosco i potenti di youtube Zio Conosco la gente forte Io Sai che io Conosco Conosco mario Il fra Conosco mario Io conosco tanta gente Oddio Oddio Ho paura Qua Vedo solo 5 kill Siete in 16 Ma che Dio Ho niente 20 bot 20 bot 20 bombe Zio Ascolta Tutto questo Credo che 5 kill Nel tuo team Non le abbia fatte Neanche il più forte Di tutti Ma neanche tutti insieme Ma neanche tutti insieme 5 kill Ma sì Ma neanche tutti Della tua vita Zio 5 kill Hai mai fatte Dai Dai Io sarei Il prodigio Sarai nel tuo team Zio Dai Su Tac Figa Dai Su Tac Ma dopo Infatti Guarda Sei entrato al 100% Ti do le chiavi Della macchina De casa Sì Da me che le chiavi De casa Zio Dai Sì Tutto Tutto Ti do Zio Sai cosa mi potresti dare Le chiavi No 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 Sai cosa Sai cosa mi potresti dare Cosa La cazzo Zio Banna Blocca Questo è il tuo peggior nemico Guarda che è più forte Zio Zio Mi spara da dietro Zio mi spara da dietro Lei che ti spara è la torretta Che è più forte dei nemici Guarda guarda Zio guarda Guarda Ti lancio pure in scelina Questo Dai Questo qui sei tu Questa qui a scuva Questa qui a scuva Ma lei si è ucciso a scuva Questa è Zara Ah sì dai Zatto Zara Scusa Sontanmente tanto scherzi Che sono uguali Dai Zara Guarda 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 Piccolate in pubblica Mamma mia No zio No zio No veramente Insegnami Prego Adesso ti insegnerò Io comunque sapevi che facevo delle lezioni online su come giocare a Fortnite Io ero un pro player Lezioni Sì 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 Mille euro a lezione No no Facciamo 50 euro a l'oretta Così poco Così poco Sì sì Credo Ok è un nemico là che sta fermo sulla legna Ma dove zio Dove Zio dov'è Ah qua è missato eh Qua è missato eh Sì zio Mi faceva un pochino pena Ho dovuto missarlo Dai non potevo non missarlo Zio Giusto perché si è mosso Esatto Ma comunque Ma comunque Ma comunque Sì va bene Eh zio zio Guarda se sei veramente forte Utilizzo Bravo mi hai detto nel pensiero Io ma siamo parenti No senza pompa Zio senza pompa Zio scontate in secondo Io ti consiglio ovviamente di non caricare questo video sul canale Andresti a sminuire troppo gli altri componenti degli ex Zio al 100% Guarda guarda questo dai Guarda questo Guarda questo Guarda questo Guarda questo Zio zio Tu queste che qui ne le fai neanche Eh ma lo so appunto Mi emoziono Emozionati Mi stanno sparando No vabbè ma schivi i colpi Io so Al contrario Guarda guarda Eh sono un gran problema 10 kg Schivi i colpi al contrario 10 kg Non li hai fatte tu e tutti i menu nel tuo team In tutta la vostra carriera di forte investi insieme Zio dai Ma anche sono fatto tutte le partite che ho fatto fino adesso Esatto 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 Zio Ma c'è Contato Quanta ricordi chi il tuo Dai 2 2 Meno 1 Immaginavo che ne avessi fatto in 0 Immaginavo Vai vai che sono rimasti in 2 Su Ma cosa stanno facendo Ma cosa stanno facendo Guarda guarda Non si prendono Morto Eh zio zio Guarda che se perdi perché ti buttano giù Ti giuro che Non mi buttano giù zio Guarda cosa faccio Ti faccio vedere io una cosa bella che faccio Aspetta 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 Ora faccio una mega torre Salgo E poi mi butto e lo faccio E lo killo dai zio Guarda ti faccio vedere Guarda bene qui come si gioca Adesso ti faccio vedere un po' Ma tu l'hai fatto zio Sì era perché mi faceva appena l'ultimo zio Per questo Sì va bene Ok non è passato il provino Mi dispiace Ma come zio non ho Torno in lobby Torno in lobby Dai 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 Voglio vedere quante kill L'avversario ha 0 kill Esatto Mi faceva appena zio dai Eh signor Signorina Diego Obusivo Zio Diego Ti posso dire una cosa Una cosa importante Vai nella shop di Forte Ti un attimo al volo Vai nella shop Sì e te regalo qualcosa No poi dopo c'è scritto Diego Obusivo Lo schiacci Secondo devi scriverci Codice Zerbi Trollato Trollato Ma va Ma gente a Zerbi A noi sono introllabile Io lo sapevo che erano troll Ma dai Ragazzi scrivete nei commenti Se l'avevo capito Secondo voi Non l'avevi Non l'avevi mai Capero io Mai Non l'avevi mai Fra avevo cambiato anche la cinta Mi sono messo a dire zio Io non dico mai zio Dico fra Ok zio Però che era un troll Era capibilissimo Lo sapevo Dai era scontatissimo Sì dai dai Ascuma Ascuma Lì Abiconate Ascuma Azzara Livello basso Cosa eccetera Quindi Sei scarso Comunque sto registrando Vabbè L'avrei già capito Sì 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 Sto registrando Comunque L'hai già capito Che sto registrando Sicuro Quindi ragazzi Spero che questo video Mi sia piaciuto Mi raccomando A codice Zerbi Non lo sciopero Un codice Diego Trattino abusivo Importantissimo Vabbè Mi raccomando ragazzi Seguitemi tutti Su Instagram Link sotto in descrizione Iscrivetevi al canale Ativate la campanina Arriviamo a 10.000 like Per altri video di questo tipo Niente ragazzi Dato questo Noi ci vediamo Ad un prossimo video Bye ragazzi Ciao 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 Ciao